nome luigi conti corrado di marco renzo rinaldi professione pizzaiolo artigiano delle farine artigiano dei forni perché sei a tirreno ct per presentare la scuola per presentare i miei prodotti per presentare la collaborazione con questi due perché questa collaborazione perché penso che loro due sono seri come me sono in action perché sono persone qualificate per il massimo della professionalità per divulgare anche un po di cultura nel mondo della pizza una qualità dei tuoi partner precisi leali cordiali in action professionali e tecnici per le attrezzature seri e competenti un difetto dei tuoi partner lui si dimentica le cose ogni tanto lui no lui ha troppi pizzaioli bisognerebbe cacciare via qualcuno lui il fornisce attrezzature di due tipi una perfetta e una commerciale le commerciali non le voglio vedere lui mi smonta i miei forni commerciali e lui me ne vende pochi la prossima volta insieme domani mattina qui domani al concorso di pizza stasera a finire la registrazione pizza preferita pizza romana pizza romana con funghi acacia e pepe senza funghi il mondo della pizza in una parola just pizza grande pizza romana aiuto un saluto a pizza food ciao pizza food pizza food è grandissima ciao food